lezioni di canto, vai canta lo signor no, no, no e no quando finisce quando finisce la strofa tu ti inserisci qua e la strofa qua la strofa? no, la strofa la strofa canta lo signor più volte lo devi canta quello che dico io lo devi ascoltare è chiaro? sì prima di tutto levo le mani davanti se no con la zampata canta lo signor per tre quando hai sentito canta lo signor per tre intervieni tu che fai canta lo signor per tre, tre volte? sì, tre volte e un, e due, vai canta lo signor canta lo signor canta lo signor ma questo è Tarzan dagli il ritmo dalla voce fallo spezzato tre quartini per tre quartini per l'ottave devi fa provaci vai 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 no è a la vedi la mano mia come fa? a a la vesta ma porca è un vai canta lo signor canta lo signor non va bene non va bene non va bene non va bene hai trovato il pane? beh vai tieni il tempo vai grazie perché ha rientrato vai il tempo cosa fa? era tieni il tempo che è il tempo? che è il tempo? a a a a a a vedi com'è dinamico parallelico a a a a no no e no ma io lo senti a a a a a vedi che è il tempo come fa? e allora faccio tu no sei tu il protagonista del musical vai a a a a a no oh un sacco di coglioni non so che fai e a a a a a za 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 oh io ho 96 anni non so che fai mettele tu era teni il segreto è teni il tempo vai a a a a vai tu a me mi hai rotto il cazzo stronzo 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 hai capito che mi hai rotto il cazzo? no no ma io ti volevo fare emergere nel mondo ma tu a me mi hai fatto fare niente le ti dico io emergere nel mondo della musica facciamo musica ah dai ah dai il mondo del canto è semplice tu esprimiti canta fai vedere chi sei chi sei canta che ti passa esatto da questo punto possiamo partire e fare il nostro musical ma io non la fai niente perché? perché non la fai niente famo il musical o no? ma questo musica famo il musical ah che prega bisogna sviluppare le corde vocali i corni tu se sviluppi le corde vocali come ti dico io riusciamo ad avere un amplificazione della voce soprattutto sul si bemolle ma lauta di coglione fammi il piacere battani ah ma il si bemolle è il si bemolle perché è piovuto fuori sì sì le molle le moioli quelle che non dai cammino non si bemolle no mannaggia crocistrata ma brutta sa è sto su